Sorridenti, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, dopo la rottura social, tornano a vedersi e a sedersi vicino a una cena di gala. Hanno lasciato alle spalle lo scambio di cinguetti in cui dichiaravano la fine della loro storia d'amore, pronti a un nuovo capitolo. Se sono tornati insieme oppure no, non è dato saperlo per ora, ma i loro sorrisi sembrano comunicare ancora una reciproca intesa. E Salvini sul suo profilo, prima dell'evento di gala scrive mamma mia, saranno dieci anni che non metto lo smoking, devo trattenere il fiato. Lui e la sua ex si sono ritrovati al tavolo insieme alla cena di gala di Alice, l'associazione della logistica. La Isoardi in veste di conduttrice dell'evento ha presentato gli ospiti e inaspettato è arrivato il vice premier. Entrambi hanno riso e scherzato mentre molti dei presenti scattavano fotografie e giravano video. Salvini si è presentato in smoking dopo aver partecipato alla cena al Quirinale in onore dell'emiro del Qatar. La Isoardi invece ha indossato un abito rosso con uno spacco vertiginoso. E per i beni informati, la Isoardi ieri era andata anche dal parrucchiere a farsi ancor più bella. Insomma, se i due sono tornati insieme non è dato saperlo, sicuramente si attendono aggiornamenti social. Grazie.